Allora, chiamiamo l'affello. Tripoli presente, Tomasello assente, San Filippo Salvatore presente, Emmiti assente, San Filippo Venera assente, D'Agostino presente, Imburgi assente, Matrone assente, Canzoneri assente, Venturi presente, Gagliano assente, Marino assente, Martorano assente, Bella presente, Orlando presente. Presenti sei, pertanto c'è il numero legale, la seduta è aperta. Stimo punto all'ordine del giorno, nomina strutatovi, propongo Bella, Venturi, D'Agostino, che è favorevole all'unanimità. Secondo punto all'ordine del giorno, proposta di deliberazione numero 2 del 24 dicembre 2015 del Presidente del Consiglio, oggetto estremi di necessità e urgenza della seduta, che è favorevole all'unanimità. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, proposta di deliberazione numero 11 del 15 dicembre 2015 del responsabile area finanziaria, oggetto armonizzazione contabile, rinvio all'anno 2016 di adempimenti in materia di piano dei conti integrato, contabilità economico patrimoniale e di bilancio consolidato. Parere di regolarità tecnica favorevole a firma del dottore Angelo Benfante, parere di regolarità contabile favorevole sempre a firma del dottore Benfante. C'è il parere del revisore con protocollo nota 21.148 del 22 dicembre 2015, che recita, vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 11 del 15 dicembre a firma del responsabile area servizi finanziaria, sottolineando nuovamente l'inadeguatezza da parte dell'apparato amministrativo di questo Comune, a cui il Sindaco e l'Aggiunta Comunale devono porre tempestivo rimedio, si esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 11 del 15 dicembre 2015. invito il Consiglio Comunale a dare atto di indirizzo all'Aggiunta Comunale affinché le procedure consentano l'armonizzazione contabile e si concludano in tempi stretti e comunque non oltre il 28 febbraio 2016. il Revisore dei Conti, il Dottor Giovanni Sanfilippo. Abbiamo il parere della Commissione, dove al punto 1 tratta armonizzazione contabile, consiglieri presenti Orlando, Ventura e Vella, che esprimono parere favorevole all'unanimità. Ci sono interventi? No, volevo approfittare della presenza del responsabile Dottor Belfante per chiedere appunto agli altrimenti del Consiglio emotivi di questo punto. Buonasera. Allora, fondamentalmente l'armonizzazione prevede un nuovo adempimento che è quello praticamente del consolidamento dei conti allo Stato patrimoniale dall'Ente. Questo va fatto entro il mese di giugno 2016 per quanto riguarda il conto consuntivo 2020. Ovviamente per il consolidamento dobbiamo partire da un dato di fondo che è la base, cioè l'aggiornamento degli inventari. Voi sapete, perché avete deliberato, che gli inventari hanno una carenza che devono essere rivisti dal punto di vista dell'aggiornamento e a seguito praticamente di deliberazione in funzione delle misure correttive del conto consuntivo 2012 questo Consiglio è deliberato di dare mandato all'infficio affinché gli inventari venissero aggiornati entro l'anno 2015. Purtroppo vi devo dire che questo non è addemuto. Ciò posto, qualora non si provvedesse ad un rinvio opzionale al primo gennaio 2016 e quindi al consolidamento dei conti a giugno 2017 entro giugno 2017 vi devo già dire che a differenza degli altri anni il parere da parte sia del revisore che del responsabile finanziario su un conto consuntivo non può essere negativo perché non rispetterebbe i postulati della nuova armonizzazione contabile motivo per cui si è ritenuto opportuno proporre un invio di un anno previsto dalla legge e dentro l'anno fiscale perché dal primo gennaio 2016 parte già del micro in dimontazione. Fondamentalmente questo è il cuore della proposta. Poi ripeto il consolidamento dei conti prevede anche di andare a consolidare quelle che sono le società partecipate tutti noi sappiamo le difficoltà che abbiamo nel consolidamento dei conti proprio perché nell'atto successivamente del conto consuntivo non riusciamo a pagare i debiti e i crediti per cicloci con le società partecipate e figurarci andare praticamente a consolidare i conti. E della giornalità dei venti mentali quali uffici è l'ufficio che va? L'ufficio tetto fondamentalmente un mentale va bene è stato chiaro ci sono altri interventi? Si passa alla votazione chi è favorevole all'approvazione della proposta numero 11 dal 15 dicembre 2015 all'unanimità si passa alla votazione dell'immediata esecutività di cui al punto 3 chi è favorevole all'unanimità passiamo al punto 4 approvazione conto consuntivo prima di passare alla proposta devo dare notizia che con protocollo 21.444 del 30 dicembre di stamattina con decreto assessoriale numero 193 del 3 agosto 2015 intervento sostitutivo approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 e degli allegati invito ad adempiere al signor presidente del consiglio comunale signori consiglieri comunali al signor segretario comunale e per conoscenza al signor sindaco con decreto assessoriale 193 del 3 agosto 2015 notificato il 10 settembre 2015 alla segreteria comunale lo scrivente componente dell'ufficio ispettivo del dipartimento autonomie locali dell'assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica è stato nominato commissario ad app ai sensi del combinato disposto degli articoli 109 bis dell'ordinamento enti locali il 58 della legge regionale primo settembre 1993 numero 26 e 227 del decreto legislativo 267 con il compito di curare gli adempimenti relativi al rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2014 omessi dall'amministrazione comunale nel prendere atto che il presidente del consiglio comunale giusta comunicazione protocollo 21.266 del 24 dicembre 2015 ha convocato il consiglio comunale in sessione straordinaria urgente per il giorno 29 dicembre 2015 con un quarto punto all'ordine del giorno approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014 e che preso altresi atto della mancanza del numero legale che ha determinato il finvio della seduta al giorno successivo 30 dicembre 2015 quindi oggi si diffida il consiglio comunale ad approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014 e gli atti connessi a ogni altro documento finanziario allegato previsto dalla legge entro il termine di giorni 30 dalla data della dunanza rinviata per oggi si avvertono i signori consiglieri che il rendiconto di gestione 2014 con i relativi documenti allegati previsti dalla legge dovrà essere approvato nel termine massimo di 30 giorni dalla data della dunanza rinviata per oggi che decorso infruttuosamente detto termine si propederà in via sostitutiva in applicazione del secondo comma dell'articolo 109 bis dell'ordinamento antilocale e del citato decreto assessoriale 193 del 3 agosto 2015 che l'esercizio dell'azione sostitutiva con l'adozione delle deliberazioni commissariali di approvazione dei citati documenti comporterà l'applicazione delle sanzioni previsti dai commi 3 e 4 del citato articolo 109 bis ordinamento antilocali della sospensione successivo scegliamento del consiglio comunale il segretario comunale è cortesemente incaricato di curare la notifica del presente avviso a tutti i consiglieri comunali secondo le ordinarie procedure prima che abbia inizio la seduta del consiglio informando tempestivamente lo scrivente mediante mail dell'esito degli adempimenti posti in essere il presidente del consiglio comunale avrà cura di provvedere alla lettura del presente avviso all'inizio dei lavori della seduta consigliare già convocata per il giorno 30 dicembre 2015 il commissario ad acta dottor giuseppe per la via pertanto entriamo nel punto oggetto quindi delibera numero 12 del 18 dicembre 2015 responsabile area finanziaria oggetto approvazione conto consultivo esercizio finanziario anno 2014 parere di regolarità tecnica favorevole a firma del responsabile del servizio dottor Angelo Penfante parere di regolarità contabile favorevole sempre a firma del responsabile del servizio dottor Angelo Penfante c'è il parere della commissione che recita al termine dei chiarimenti ritenuta la proposta meritevole di approvazione in quanto vi è la corrispondenza del rendiconto delle risultanze della gestione visto il parere favorevole dell'organo di previsione contabile ove propone altre siti vincolare tutto l'avanzo di amministrazione esprimono parere favorevole all'unanimità non prima di aver segnalato che in questa sede non hanno potuto verificare l'andamento della gestione del mercato ittico per l'assenza di documentazione di rendicontazione amministrativa pertanto invitano l'amministrazione comunale con l'urgenza del caso a prendere i ritenuti opportuni provvedimenti per la rimozione delle anomalie segnalate da parte del segretario comunale del responsabile finanziario e del revisore dei conti i consiglieri presenti alla commissione erano Orlando Venturi e Bella questo è il verbale del numero 13 del 28 dicembre 2015 ci sono interventi do lettura del verbale 29 del 16 dicembre dell'organo di prescrizione do lettura solo della parte finale dato atto che lenta valendosi della facoltà di cui all'articolo 232 del testo unico enti locali nell'anno 2014 ha adottato il seguente sistema di contabilità sistema contabile semplificato contenuto della sola contabilità finanziaria utilizzo del conto del bilancio per costruire a fine esercizio attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative il conto economico e il conto del patrimonio il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali tenuto conto che durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza delle competenze contenute nell'articolo 239 del testo unico enti locali avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate di campionamento il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente le funzioni richiamate e relativi pareri espressi dall'organo di previsione risultano dettagliatamente riportate nei verbali da 1 al numero 28 le regolarità non sanate i principali rilevi e suggerimenti espressi durante l'esercizio sono evidenziati nell'apposita sezione della presente relazione riporte i risultati e le attestazioni del rendiconto per l'esercizio 2014 conclude tenuto conto di tutto quanto esporto rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto all'esercizio finanziario 2014 e si propone di vincolare l'avanzo di amministrazione disponibile per le finalità indicate nella presente relazione che è quanto poi ha sposato la commissione ci sono altri interventi bene mio presidente ebbene noi l'abbiamo fatto rilevare in commissione questo fatto che per noi è un fatto grave è appunto che noi procediamo sia all'approvazione del rendiconto però non avere contezza sulla documentazione sulla rendicontazione amministrativa inerente alla gestione del mercato ittico per noi è un fatto grave in termini di trasparenza perché il mercato ittico è una struttura dell'ente che è un maneggio di denaro pubblico quindi questo consiglio deve essere edotto di tutta la documentazione inerente alla gestione del mercato ittico quindi signor vice sindaco signor assessore tutta la giunta siccome non ho visto nessun appunto sulla relazione allegata al rendiconto su questo fatto che per noi è importante mi invito l'amministrazione nel più breve tempo possibile a porre gli opportuni rilevoli ciò lo dico perché io precedentemente nel mese di settembre quando si era proceduto appunto all'approvazione delle tariffe aveva invitato l'amministrazione a un maggior controllo e un senso di responsabilità della macchina burocratica e amministrativa ad avere una programmazione in tempi rispettando i termini temporali quindi signor vice sindaco noi oggi stiamo approvando il rendiconto 2014 e oggi è il 29 no il 30 oggi è il 30 dicembre 2015 quindi questi ritardi sono questi ritardi dovrebbero essere non dovrebbero esistere in un comune che si rispetti come il nostro quindi invito a porre gli opportuni rimedi e ad avere essere doti sulla rendicontazione del mercato interno ci sono altri interventi grazie nella nostra relazione avevamo scritto per quanto di competenza numerico contabile si fa rinviare alla relazione responsabile del servizio finanziario dell'Ende nella relazione del servizio nella nota che ci aveva inviato il responsabile si legge che con nota protocollo numero 10975 del 2015 è stata richiesta responsabile dell'area sviluppo economico in qualità di direttore del mercato interno di presentare la resa del conto con la gente contabile interno per il servizio mercato interno del comune di Santa Paglia anche per l'anno 2014 quindi la cosa che posso fare io come amministrazione è quella di effettivamente andare a verificare come mai ancora qualche dato non è pervenuto perché dagli uffici quindi io la invito ad avere dei tempi certi e a rendere dopo questo consiglio sulla remontazione inerente alla gestione del mercato perché sulla nostra relazione non avevamo fatto riferimento alla cosa ci sono altri interventi passiamo alla votazione della proposta di deliberazione numero 12 approvazione conto consultivo esercizio finanziario anno 2014 chi è favorevole all'onanita non ci sono altri punti all'ordine del giorno non la seduta è più già